Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. So che da un po' che non mi faccio vedere come non li assaggiamo, ma ho avuto qualche problema a recuperare qualcosa di un pochino strano per così dire. In ogni caso oggi è la giornata giusta e vi presento queste palatine qui della San Carlo che ha al gusto cuore di zenzero. Non so cosa aspettarvi quindi direi di aprirle e assaggiarle subito. Prima però vi dico che appunto sono il frutto di un piccolo concorso che fanno quelli della San Carlo in cui cercano di trovare nuovi gusti. Questo appunto penso che derivi dal primo concorso e ce ne sono stati anche altri. Vi farò sapere se riesco a recuperare qualche patatina dal gusto strano in futuro. Apriamo. Il profumo è un po' particolare, appunto sa di zenzero. Vi faccio vedere in realtà alla vista in realtà non sembrano del particolare, sembrano delle normalissime patatine e adesso assaggiamo. Mi assaggio anche un'altra. E' un gusto particolarmente strano per delle patatine. Cerca di mangiare dello zenzero fatto a patatina. Devo ammettere non mi entusiasmo particolarmente. Anche ho un non so che di piccolo piccantino come retrogusto. Quindi se non siete degli amanti dello zenzero, ovviamente non compratele. E anche se non vi piace particolarmente il piccante. Ha un retrogusto veramente strano. Detto questo io vi lascio. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un bel like. Se volete consigliare queste patatine a qualche vostro amico amante dello zenzero, potete condividere il video. Se avete qualche curiosità o volete consigliarmi qualcosa da provare, potete lasciarmelo tranquillamente in un commento. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguire i miei spostamenti in tempo reale. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life! Ciao!